In 40 giorni si è registrata proprio una preoccupante, proprio escalation di furti, rapine, presidi mirabarra, gioiellerie, sale scommesse, supermercati. Vediamo. Il 2017 si candida a diventare l'anno dei furti e delle rapine nell'area urbana Cosentina. Una decina di episodi criminosi sono stati consumati nei primi 40 giorni tra Cosenza e Rende. La prima, di una lunga serie di rapine, è stata messa in atto il 3 gennaio scorso, sull'isola pedonale di Corso Mazzini, ai danni della gioielleria Stroili Oro. Due persone si sono introdotte nei locali minacciando le commesse con un'arma da taglio. Una di loro ha tentato una reazione e è stata ferita a una mano, ma è riuscita a scoprire il volto di un rapinatore, immortalato dalle telecamere di sorveglianza. Nella collutazione anche il malvivente ha perso del sangue, l'esame del DNA probabilmente sarà decisivo per stabilire con certezza l'identità di uno degli autori della rapina. Il 22 gennaio l'episodio più grave. Alle 20 un ragazzo, un giovane con il volto travisato, è entrato nel bar Bruni, qui su Viale Cosmai. Nel bar c'era diversa gente. Il titolare aveva lasciato il bancone da pochi minuti con il figlio di 7 anni, che ha rischiato di essere coinvolto in una scena drammatica e pericolosa. Il giovane criminale ha colpito repetitamente il personale con il calcio e la pistola, esplodendo per sbaglio un colpo che si è conficcato nel soffitto. Sotto shock, clienti e dipendenti. Due di loro hanno subito ferite per i colpi inferti con l'impugnatura dell'arma. Nella notte del 26 gennaio, il furto al mio bar di Via Piave. La ricevitoria, nota per i colpi di fortuna, ha subito una spaccata. I malviventi hanno sfondato la sala cinesca con un automezzo e una volta penetrati all'interno hanno arraffato di tutto, gratta e vinci, valori bollati e soldi, per un valore di quasi 40.000 euro. Il 4 febbraio è toccato da una yogurteria di Roger San Rende. Il personale, minacciato da un giovane armato, ha dovuto consegnare l'incasso. Il colpo grosso è riuscito il 7 febbraio in questa yogurteria di Città 2000, già presa di 1.000 al 2012. Un giovane, avvolto scoperto, è entrato fingendosi un cliente, ha puntato la pistola alla testa del titolare e ha fatto entrare un complice che ha riempito un sacchetto di preziosi. Un'azione durata 4 lunghissimi minuti, 115.000 euro, il valore dei beni trafugati. Il 9 febbraio, in un giorno, due rapine, in un esercizio commerciale di via Lanzino, una traversa di via Panebianco e in una sala scommessa di Castro Libero, dinamiche simili e tanta paura. Alle 3.45 del 10 febbraio, un grosso pick-up ha sfondato la sala cinesca del supermercato Conad. Sette uomini hanno cercato di trafugare la cassaforte, ma sono stati sorpresi da un vigilantes, giunto immediatamente sul posto. È bastato il faro dell'auto per metterli in fuga, prima che arrivassero le forze dell'ordine. Per tutti questi episodi, le indagini sono in corso, in qualche caso, sia in una fase avanzata e forse vicina alla soluzione.